Stavo pensando, ci vorrebbe, sì, ci vorrebbe il signor Wolf, per chi ha mai film, ve lo ricordate il signor Wolf? Salve, sono il signor Wolf, risolvo problemi. Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento su Terrazza Milan, l'appuntamento quotidiano con i rossoneri. Quindi, prima di dirvi chi potrebbe essere Mr. Wolf o il signor Wolf, vi ricordo che qui sotto, link in descrizione, per chi ama la scrittura, Milan.soccer ha creato il primo concorso letterario dedicato al Milan, quindi potete scaricare il bando, partecipare e vincere. Dunque, oggi è domenica, il Milan non gioca, giocherà domani, Milan-Spezia, e vedremo però come andrà alle nostre dirette concorrenti. Ieri c'è stata una prima parte con la Lazio e la Juventus, che hanno vinto facilmente contro avversari modesti e oggi vedremo se l'Atalanta, come è stata con la Lazio, si scanserà dinanzi ai cinesi, oppure no. Certo è che l'Atalanta ha diversi giocatori fuori per Covid, mentre tutto tace, tutto va bene per la seconda squadra di Milano. e arriviamo a Mr. Wolf. Noi abbiamo un problema, ma un problema serio, ora noi ci scherziamo, ci ridiamo, e non è tanto, perché questo sicuramente va affrontato per il prossimo campionato. Il nostro settore, come possiamo definirlo, medico, perché oggettivamente tra menischi, infortuni muscolari, assenze, lasciamo perdere il Covid, perché quello non dipende da nessuno, però tra assenze per infortuni di varia natura, il Milan quest'anno ha perso tranquillamente quei sei punti, tutti, che oggi avrebbero determinato il primo posto solitario per poi arrivare ad un derby o a degli scontri diretti che facilmente ci potrebbero portare, o meglio, che ci farebbero affrontare questi scontri diretti con molta più semplicità e facilità, un po' serenità. Adesso stavo leggendo tra le note che potrebbe, potrebbe, usiamo il condizionale, rientrare Tomori per il derby, bisognerebbe accelerare, ieri l'abbiamo detto, Franco Baresi nel mondiale del 90 rientrò per la fase finale e aveva subito lo stesso tipo di intervento, quindi parliamo di una cosa tutto sommato lieve, però la Juve la salti, l'Inter sarebbe opportuno provare a recuperarlo. Punto interrogativo. Ma il nostro problema è un problema che infastidisce quotidianamente i tifosi rossoneri. Io non riesco a capire per quale ragione noi non si riesca davvero ad intervenire in questo senso. E sto parlando di tutte, e dico tutte, le testate giornalistiche, online, cartacee o media, diciamo così, televisivi, che oggettivamente hanno preso di mira la nostra squadra per arrivare a o ignorarla, o ad esempio le telecronache, adesso facciamo un'analisi molto precisa e obiettiva. Avete sentito mai le telecronache? Le telecronache sono imbarazzanti. Da qualunque parte arrivino sono imbarazzanti. E' come se dopo trent'anni di dominio, ma ormai sono passati degli anni e anche gli ultimi sei sette anni non è che sono stati, abbiamo pagato Dazio per aver vinto tutto e ovunque, quindi basta. Ma veniamo al dunque. Ad esempio, l'altro giorno abbiamo vinto contro la seconda squadra di Milano, ha vinto la Supercoppa d'Italia e quindi si alloggiava la perfezione sulla gazzetta dello sport di questo team. Poi il giorno dopo c'è stata Milan-Cagliari, scusatemi, il giorno dopo c'è stato Milan-Genoa, a proposito, Shevchenko, non ti meritano. Il giorno dopo c'è stato Milan-Genoa, questo Milan-Genoa ha portato una vittoria che andava quantomeno tenuta in considerazione. Invece sulla gazzetta dello sport che cosa c'è scritto? Di Bala all'Inter. Ma questo è un esempio. Ora potremmo prendere tutte le gazzette. Vediamo stamattina. Adesso andiamo a prendere tutte le testate. Perché se voi ripetete questo gesto tutti i giorni, vedrete che diventa fastidioso. Diventa davvero fastidioso. Lasciamo perdere i media nazionali, sia pubblici che privati. Lì, davvero, ecco, la gazzetta oggi riporta Djokovic, Djokovic, Dybala, Dybala non guardava, non ha risultato. Ancora Juventus, 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 Follia-Siviglia, una sta lanciata dagli spalti, cospisce Jordan di testa. NCA, Marco Melandri sciocco, preso il Covid apposta, poi smentisce, Melandri, ancora Melandri, Salernita-Larazio 0-3, Sampdoria-Torino 1-2, tutte le... E poi c'è l'Inter. Occhio Inter, quest'Atalanta è da scudetto. E poi andiamo avanti ed infine Calabria ha recuperato. Andrà in panchina. Giro prepara la sfida a Jean-Pierre Papel. Quindi siamo arrivati al non so dove per poter vedere del Milan. Poi andiamo su Tutto Sport che oggettivamente di Milan, possiamo dirlo, non ne parla praticamente mai. Ecco Tutto Sport e parla chiaramente del Torino e della Juventus. In particolare della Juventus è l'organo ufficiale di stampa praticamente della Juventus. Quindi scendiamo, Di Bala, Di Bala, Di Bala, Di Bala, Di Bala, Di Bala. Ancora Torino Show, Torino Show, Torino Show, Juric, Lazio, Sarri. Poi c'è una donna nuda, Antonella Cavaliere, il bikini, 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 schiedo scusa, della ex di Di Bala. Poi abbiamo un'altra bella ragazza, Carolina Stramare, illumina lo staio del Pisa. Poi abbiamo il Genoas Scerchenko. Poi c'è la Lamborghini e poi nonna Melandri. Mattarella nomina Renzo Arbore, Arbore Cavaliere di Gran Croce. Pensate. E poi niente, ci sono i motori, Sanchez a torso nudo, Messi inquina meno di Ronaldo per la sua Antonella, sceglie la mini elettrica. Marquez rompe il silenzio, gli ultimi tre mesi sono stati davvero duri. Poi c'è la Dakar. E poi arriviamo al Corriere dello Sport. Ma guardate, è meglio che non ne parlino, piuttosto che parlarne come ne parlano di solito. Di Bala e McKennie stendono Ludinesi, la Juve a Gansha in zona Champions, la Lazio, l'Atalanta Inter. Andiamo avanti, Di Bala, sempre Di Bala. O Mourinho, Olivera migliora. Poi abbiamo violenza in Coppa del Re. Melandri, Morata, Cagliari, Ronaldo, FIFA, Ternana, la Ternana, c'è la Ternana prima di noi, prima di noi, noi non ci siamo proprio. Neor si fa dare il mitico cappello di Bomarco, non so che so. Coppa d'Africa, Salah, trascina l'Egitto, Nigeria agli ottavi, De Bruyne, stand del Chelsea, il City allunga, Bayern Monaco, PSG, Mbappé, Lille, quindi niente, assolutamente il nulla, nulla, nulla. Ecco qui c'è Vandanara, se volete potete andare sul Corriere dello Sport, c'è il décolleté di Vandanara e anche il lato B in costume. Vandanara e la richiesta di Cardi, ecco perché l'ho perdonato. E poi chiudiamo questo nostro, credo che sia una pubblicità, attualità, il Covid riduce le dimensioni del pene. E con questo è tutto da Terrazza Milano, vi terremo aggiornati anche sugli altri articoli e sul fastidio. Noi siamo molto infastiditi, caro Paolo, molto infastiditi. Bisogna che tu ci metta un po' di mordente, faccia valere un po' la tua posizione, perché noi tifosi siamo un po' stufi che ci trattino a questo modo. Comunque sul Corriere dello Sport c'è scritto, ambasciatore non porta pena, il Covid riduce le dimensioni del pene. Ma riprendetevi. Comunque sul Corriere. Comunque sul Corriere. Comunque sul Corriere.